a palermo a palermo mamma mia cugino a te la donna a palermo mamma mia a te che voglio a te che voglio a te che discoteca o ci sono minne ovunque minne 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 ma che cos'è un campo minato giro ti posso assicurare che io già qua me ne sono fatto qualche dieci qualche dieci guarda quella è giovanna mi ha preso con lo sguardo sapeva miccare quella è francesca mi ha preso per la gola sapeva cucinare e quella è cammela mi ha preso con la macchina non sapeva guardare a palermo cugino eh di come stasera visto che è pieno di salvagina si oh guarda a me che c'è cugino no non ti ho capito cugino c'è la musica troppo alta non ti sento bene ascoltami stasera eh sluppate che si inforna il polpettone polpettone a palermo col biscottino no non ti sto capendo cugino te lo giuro guarda stasera eh ma stai impazzito cugino se io voglio fare toto tommete non ti preoccupare cugino ti presento tutte le ragazze della discoteca vai con la musica vai 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 ragazze preparatevi vi presento quel figo di mio cugino oh vantati vantati vieni con me vieni con me eh bezzuzza vedi che a me i fimmene mi spuiparo vivo vai cugino vantati vantati vedi che io non è che sono stato con donne così io sono stato anche con una velina di paolo bonolis eh e quando arrivavo a letto tutto nudo davanti a lei lo sai cosa diceva avanti un altro allora se mi deve aiutare mi deve aiutare si o no allora cugino ma là dietro c'è una ragazza fantastica ci sta con tutti ci sta con tutti vai là dietro è l'animatrice vai ecco ciao mio bel cioccolatino sono con mio cugino stasera lui è inserata e vuole la patata aspetta ma è un uomo ma quello è un uomo lo conosco personalmente non ti preoccupare signorina lei è un uomo no sono Gianni